Santa Francesca Romana, al secolo Francesca Bussa de Leoni, coniugata a Ponziani, è stata una religiosa e mistica italiana, fondatrice della comunità delle Oblate di Tordespecchi. Si fece povera per i poveri, spendendosi senza misura per gli ultimi. Visse per 40 anni come moglie e madre di specchiata virtù, ammirevole per pietà, umiltà e pazienza. In tempi di difficoltà distribuì i suoi beni ai poveri, servì i malati e alla morte del marito si ritirò tra le Oblate che ella stessa aveva riunito a Roma sotto la regola di San Benedetto. Nacque a Roma nel 1384 dalla nobile famiglia Bussa de Leoni e andò in sposa, ancora dodicenne, per volere del padre, al nobile Lorenzo de Ponziani, che si diceva fosse imparentato con Papa Bonifacio IX. Si trasferì così nel Palazzo de Ponziani a Trastevere, dove ebbe tre figli, Battista, Evangelista e Agnese. Poi gli ultimi due morirono di peste, ancora giovani, nel 1410. Il 15 agosto 1425, con nove compagne, si offrì come oblata della Vergine nella Basilica di Santa Maria Nova al Foro. Per otto anni le Oblate continuarono a vivere nelle proprie famiglie, sino al marzo del 1433. Quando, acquistata una casa nel rione Campitelli, ai piedi del Campidoglio, dalla famiglia Clarelli e i suoi parenti, cominciarono a condurvi vita comune. Francesca le raggiunse tre anni dopo, alla morte del marito Lorenzo, e assunse la guida della congregazione. Il monastero, dove si costituì l'ordine delle Oblate di Santa Francesca Romana, è ancora esistente e attivo, in via del Teatro Marcello. Morì il 9 marzo 1440 a Roma, nella casa di Trastevere. Di lei rimangono le vesti e un dito, esposti al monastero di Tordespecchi, mentre la salma fu sepolta presso l'altare maggiore della Basilica di Santa Maria Nova, al Foro, a Roma, sempre. ufficiata dai monaci benedettini olivetani, che le venne reintitolata nel 1608, l'anno della canonizzazione. L'anniversario della sua morte fu dichiarato festivo pochi anni dopo il suo decesso, per via del grande afflusso di fedeli presso il luogo di sepoltura.